Primo spettacolo Il testo di Scarpetta nasceva in un momento storico in cui l'Italia era a terra, era il dopoguerra, c'era un paese da ricostruire, c'era molta miseria. A oggi che cosa ci può raccontare questo spettacolo se lo incassiamo nell'Italia di oggi? Allora, il problema è uno solo, cioè che questi classici sono di grandissima attualità, perché il meccanismo che sta alla base di miseria e nobiltà, cioè che arriva il marchesino da questa banda di spiantati e gli chiede, in cambio di un po' di mangiare di qualche soldo, di impersonare questi nobili per chiedere la mano della sua fidanzata, ma questo meccanismo atroce che poggia sulla miseria è lo stesso che si usa da scampia in poi, cioè nel senso che se invece di andarci il marchesino ci andasse un camorrista a proporgli una cosa forse un po' più complicata, ma tutto sommato per quattro soldi, perciò il problema vero è che raccontando in una maniera assolutamente esilarante e fulminante il pubblico si lamenta che ha la faccia, che i muscoli non sono più abituati a ridere, quindi ridono dopo due ore, gli sembra che gli è successa una cosa, se ne vanno con la paresi per le risate, però la verità è che il meccanismo raccontato da scarpette è questo meccanismo atroce, per cui bisognerebbe occuparsi di togliere di mezzo la miseria perché la miseria è uno dei primi sistemi di prigionia dell'uomo, gli leva la dignità, gli leva la sua compostezza di essere umano e lo costringe rapidamente a qualunque tipo di accordo pur di mangiare. E' il mood di quello che può essere questo momento che stiamo anche vivendo, perché Giapice ho anche messo qualche bella battutina della serie non si arriva alla fine del mese, qua il mese non inizia neanche a un certo punto, viene detta questa cosa, per cui dove veramente bisogna stare a fare un po' una spendy review in questo senso, per cui questo è il sapore. Quando parlavamo di miseria e nobiltà dicevamo ma perché ancora miseria e nobiltà, cioè bisogna pigliare miseria e nobiltà di nuovo e metterlo in scena, e invece c'è una funzione sociale, in questo periodo come era già successo con Scarfalietto, la gente si affida a noi, viene a teatro, si siede dopo aver passato magari giornate micidiali con i guai che ci assistono costantemente, e invece si mette là, si fa accudire, si fa coccolare, se ne esce contenta, e forse il teatro in alcuni momenti può anche essere questo, cioè può avere funzione sociale in quanto lievito di consolazione di queste giornate.